Il 23 noi abbiamo del tempo, ci viene offerta la possibilità di riflettere su dei temi. Giornate europee. Il 23 noi possiamo pensare di costruire insieme una casa di cui la cultura costituisce la fondamenta. Del patrimonio. E qui sta l'errore. Il patrimonio non è qualcosa che possediamo, è qualcosa che abbiamo, che siamo. Quindi il 23 venite via Balbi, io ci sarò.